Musica Barcati nelle coste ragusane 78 migranti, questa notte fra le 3 e le 4 un barcone è scaricato sulla costa di Caucana in territorio di Santa Croce e Camerina, 76 extra comunitari per lo più egiziani tutti uomini, tra cui alcuni minorenni. Gli immigrati sono stati intercettati dalle forze dell'ordine coordinate dalla procura della Repubblica di Ragusa, un paio sono stati trasportati in ospedale perché avevano bisogno di cure mediche, anche se non si tratta di nulla di grave, mentre gli altri sono stati rifagillati e trasferiti presso il centro di accoglienza di Pozzallo per essere identificati. Proprio la guardia costiera e la guardia di finanza hanno avviato le indagini per rintracciare gli scafisti e non è esclusa che si possano nascondere proprio tra gli immigrati che hanno attraversato il mare. Con la bella stagione il mare calmo sono ripresi così gli sbarchi di clandestine sulle coste della Sicilia e di certo quello di questa notte è stato il primo purtroppo di una lunga serie di viaggi della speranza di persone che non hanno nulla da perdere e tendono la fortuna arrivando nel nostro paese. Mantenere la guardia vigile è un diktat che non bisogna mai dimenticare quando si parla di sicurezza stradale. Lo ribadisce chiaramente il comandante provinciale della Polizia Stradale di Ragusa, Gaetano Di Mauro, perché quella delle morti sulle strade è una problematica purtroppo sempre attuale. La stessa Commissione europea ha più volte sottolineato che nonostante i progressi realizzati in materia di sicurezza stradale in tutta l'Unione, durante il cosiddetto terzo programma di azione europeo per la sicurezza stradale 2003-2010 sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la sicurezza sulle strade. L'obiettivo è duplice, è fare sentire più sicuri gli automobilisti e ridurre il numero dei feriti e dei morti in seguito a sinistri. La provincia di Ragusa segue la scia dell'Europa e dell'Italia con importanti risultati, anche se, come appunto ricorda il comandante, non bisogna adagiarsi sui risultati raggiunti. È un campo sicuramente complesso perché non ci si può mai rilassare e bisogna essere sempre allerta, quindi fare sempre una continua attività di prevenzione e di controllo. Però posso anche dire che è un settore, a differenza di quello che si crede, cioè che talvolta incidenti cadono dall'alto, una casualità. Non è così. Il 97% degli incidenti dipendono da un errato comportamento, da un mancato rispetto del codice della strada. Quindi facendo delle buone campagne di prevenzione e di controllo si può intervenire. Formazione di una coscienza civile contro la mentalità mafiosa. Questo è il tema dell'iniziativa promossa dalla FIDAPA di Comiso per ricordare a vent'anni dalla scomparsa i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi barbaramente dalla mano mafiosa. A relazionare durante la conferenza è stato Vincenzo Saito, giudice del Tribunale di Ragusa. La FIDAPA ha voluto organizzare anche un concorso di disegno a tecnica libera, riservato ai ragazzi delle scuole elementari e medie della città, sul tema della legalità. I lavori sono stati esposti in una mostra presso il Centro Servizi Culturale. La ricorrenza in sé è per il ricordo di questi valorosi magistrati, quando per il coinvolgimento dei ragazzi, ragazzi di scuola media, che è il punto fondamentale delle esigenze che noi dobbiamo affrontare, proprio per seminare e raccogliere i frutti di un cambiamento di mentalità, di un cambiamento di prospettive, di un impegno naturalmente che ci viene proprio da questi magistrati. A portare i saluti della FIDAPA la Presidente della sezione di Comiso Pina Giaccone, Cettino Olivieri, Presidente del Distretto Sicilia. La FIDAPA di Comiso ha voluto, indicendo questo concorso nelle scuole medie e nelle scuole elementari, sensibilizzare i ragazzi alla tematica della legalità. Soprattutto si è voluto fare un concorso con disegni a tecnica libera, in modo da lasciare liberi i ragazzi di esprimere come vedessero loro e come vedono loro il fenomeno mafioso. E soprattutto sensibilizzarli alla legalità, come diceva Bufalino, ci vogliono maestri elementari bravi per eliminare la mafia in Sicilia. E comunque per istruire e educare alla legalità i diritti e i doveri. Arrestati 14 egiziani ritenuti responsabili dello sbarco di ieri notte è venuto a Caucana. Le forze dell'ordine hanno fermato 14 uomini individuati come gli scafisti. Dal racconto dei migranti ci sarebbero anche alcuni dispersi. In particolare, secondo l'accusa, gli arrestati si sono associati fra di loro e con altre persone in via di identificazione, con l'obiettivo di compiere attività dirette a favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano a fine di lucro. In tutto, lo ricordiamo, sono sbarcate nella spiaggia di Caucana 78 persone. In particolare, il modus operandi utilizzato dagli scafisti. I migranti infatti sono stati fatti salire su un gommone, trainato prima da un peschereccio e poi arrivato fino a pochi metri dalla spiaggia. Sui 14 fermati, grava anche l'accusa di avere cagionato il naufragio del gommone, con a bordo un numero eccessivo di persone, trainando lo stesso gommone ad alta velocità e provocando la caduta in mare di alcuni occupanti. E tuttora 4, come detto, risultano dispersi. Crediamo che siamo di fronte a un modus operandi diverso, perché questo è un peschereccio e nei pressi di questo peschereccio, un pochettino più a largo, abbiamo trovato anche un gommone. Abbiamo trovato anche qualche tempo fa, il primo maggio, un altro gommone, spiaggia Tarrandello. Crediamo che sia una nuova metodologia, cioè avvicinarsi con un peschereccio, di norma veramente un peschereccio, anche questo sembrerebbe così a un occhio normale, a un occhio esterno, un normale peschereccio, si avvicinano alle acque territoriali italiane e poi sganciano questo gommone dove posizionano gli immigrati e li avvicinano alla terraferma. Questo è un metodo anche molto pericoloso, perché noi sappiamo che ovviamente questi ragazzi, queste persone, gli immigrati che salgono in questi gommoni sono molto inesperti ovviamente nella guida di questi mezzi, ma sono anche spesso incapaci di nuotare, o comunque hanno delle grosse difficoltà, che comunque a quella distanza d'arriva chiunque avrebbe delle difficoltà. Quindi siamo di fronte a un modus operandi che per loro gli salva normalmente la nave, o comunque loro tendono a cercare di salvare il peschereccio, a nascondersi bene, quindi a non avere controlli da parte nostra a mare, però è un modus che rischia delle volte anche di lasciare in acqua delle vittime. Quindi noi nei confronti di questo metodo faremo ancora più attenzione e faremo ancora più una battaglia, perché questo è un metodo troppo rischioso e che speriamo non venga più attuato. E le indagini delle forze dell'ordine stanno proseguendo per capire se qualcuno si è riuscito a fuggire una volta arrivato sulla spiaggia o se i corpi siano ancora in mare. I 14 adesso si trovano rinchiusi nel carcere di Modica a disposizione dell'autorità giudiziaria. Condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione, l'avvocato Francesco Scribano. Scribano, 37 anni, vittoriese, è accusato dell'omicidio di Giuseppe Licitra, noto DJ di una radio di Vittoria. L'omicidio, lo ricordiamo, è avvenuto il 14 dicembre del 2010, incontrato a Giardinello a Comiso. La sentenza, dopo circa 6 ore di udienza con il rito abbreviato, è stata emessa dal GUP del Tribunale di Ragusa. L'imputato dovrà pagare una provisionale di 60.000 euro alla parte civile, ovvero alla moglie e ai figli di Licitra. Il GUP ha concesso all'uomo la semi-infermità mentale ed ha fatto cadere il reato della premeditazione. Il PM Monica Monego aveva chiesto 16 anni con la concessione delle attenuanti generiche. L'omicidio, dopo pochi giorni, aveva confessato il delitto. Tra i due c'era stata una discussione piuttosto animata, dovuta probabilmente a questioni di lavoro. Aumenta di giorno in giorno il rischio che non venga rispettato quanto promesso dall'amministrazione. Il 27 agosto, infatti, il centro storico a Ragusa può non essere completo, lo stesso di Raimondo, uno dei proprietari della ditta appaltatrice, avrebbe detto che sarà completata solo la pavimentazione. Niente illuminazione, dunque, niente alberi, che forse è l'unica buona notizia, arredi urbani, illuminazione, niente di niente. E i commercianti si mostrano sempre più preoccupati. Non basta, infatti, la rassicurazione da parte dell'amministrazione che il cronoprogramma verrà rispettato. Molti di loro non ci credono, ogni giorno, infatti, con i propri occhi, controllano lo stato di avanzamento dei lavori, ma ogni giorno si accorgono che procedono troppo a rilento. La causa sarebbe un numero troppo esiguo di operai impegnati nei lavori e a tal proposito pare che da lunedì debbano arrivare nuove squadre, ma ciò non soddisfa chi vede in gioco il proprio destino lavorativo. Le riunioni periodiche che l'amministrazione sta facendo sembrano, infatti, più appuntamenti per contare superstiti di settimana in settimana che per gioire dei risultati conseguiti. Se da quando sono iniziati i lavori di riqualificazione mesi fa di Chiara Cesare Sorbo, presidente di Confcommercio, siamo arrivati a questo punto, come possiamo non essere preoccupati? Il problema è che siamo nella situazione di non poter fare altro che aspettare, pur restando vigili sulla situazione. La prossima riunione è intanto già fissata per l'11 giugno, a poco più di due mesi dalla scadenza dei lavori. L'auspice è che per quel giorno passi avanti siano stati compiuti, altrimenti diventerà sempre più difficile credere alle rassicurazioni dell'amministrazione. Ennesima puntata della protesta per l'aeroporto di Comiso. Continua senza tendennamenti la protesta Ore sotto il sole, promossa da diversa associazione da alcuni partiti della città casmenea, per tenere sempre alta la guardia in vista dell'apertura dello scalo. Questa mattina la permanenza prevista è stata di tre ore, dalle 12 alle 15. Intanto ieri mattina si è riunito il coordinamento cittadino che sostiene le lotte per l'ospedale e l'aeroporto. I componenti del comitato hanno discusso anche delle forme di partecipazione del coordinamento alla giornata di lavoro per l'aeroporto, che si terrà giovedì mattina alla provincia regionale di Ragusa, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture per Cammelo Russo e forse del presidente della regione Raffaele Lombardo. L'idea è quella di una manifestazione con palloncini colorati, striscioni e cartelli. Speriamo che vengano a muovere e a fare una giornata di lavoro come hanno promesso per dare notizie serie e certe ai cittadini di come stanno svolgendo le cose. Noi speriamo sempre che l'attività dell'aeroporto inizia entro la fine dell'anno e sarebbe già qualcosa di eccezionale. Come coordinamento cittadino, come cittadino zattiva, noi andremo a manifestare davanti alla sede della provincia e a portare idealmente, forse con un volo di palloncini, le nostre idee per poter aprire l'aeroporto o comunque sollecitare tutti coloro che hanno potere decisionale a muoversi. Un bene pubblico come l'aeroporto non può essere lasciato in queste condizioni perché significa sperpero di denaro pubblico. In cantiere pure la possibilità di organizzare una grande manifestazione per l'aeroporto a metà giugno, auspicando una massiccia partecipazione dei cittadini di tutte le forze sociali e politiche, non solo di Comiso ma anche dell'intera provincia. A Comiso è già campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. I partiti e i movimenti stanno già studiando le prime mosse per non farsi trovare impreparati. Partiamo dalle certezze. Il sindaco Giuseppe Alfano vuole ricandidarsi, ma vedremo cosa deciderà di fare il suo partito e il PDL, che invece ha in testa una grossa confusione all'Udc. Con un piede fuori e l'altro dentro, da quando è stato dichiarato il dissesto, diviso sul voto all'aumento delle tasse. A fare un po' di chiarezza dovrebbe essere il congresso, previsto per fine giugno. Da lì dovrebbe uscire la posizione ufficiale del partito dello scudo crociato, ma una cosa è certa, difficilmente gli elettori potranno dare fiducia a una forza politica, che per quasi tutto il mandato ha dato fiducia al sindaco, svegliandosi solo negli ultimi mesi. Ma di lasciare la poltrona agli assessori Cassibio e Schirmo non ne vogliono proprio sapere. Anche il PD ha bisogno di fare il punto della situazione. Durante l'ultimo comizio in piazza, il segretario cittadino Gigi Bellassai ha aperto ad una candidatura, che provenga anche al di fuori dal partito. Un'apertura però che qualcuno ha fatto diventare certezza, sostenendo che Bellassai non intende candidarsi. Una conclusione troppo affrettata, perché all'interno del partito potrebbero esserci altri possibili candidati al sindaco, per esempio il segretario provinciale Salvo Zago. Dunque, prima di aprire, bisognerà stabilire gli equilibri interni. Tra i nomi esterni che circolano, ci sarebbe quello di Salvatore Inghilterra, direttore generale di un istituto di credito. Ma i nomi che si fanno adesso, si sa, rischiano di essere bruciati, e il vero candidato uscirà solo alla fine. Infine, bisognerà fare conti con gli altri oppositori di Alfano, Progresso Sud, Grande Sud, Selleri, Fondazione Comuniste, che vorranno dire la loro sul successore di Alfano. E visto i diversi orientamenti, sarà difficile, se non impossibile, trovare una sintesi. Agrem mi costi, ma quanto mi costi. E sì, cari cittadini vittoriesi, la ventottesima edizione della rassegna fieristica dedicata all'agroalimentare, durata solo tre giorni, dal 30 marzo al primo aprile, è costata un bel po'. Partiamo subito dai costi sostenuti per la campagna di promozione di comunicazione, di cui nessuno si è accorto, e iniziamo, per così dire, col botto. Nella delibera numero 17 del 28 marzo 2012, il CDA ha deliberato il pagamento di 4.000 euro, IVA compresa, al signor Dario Parascandolo, di Napoli, per la fornitura di servizi giornalistici in occasione degli Stati Generali dell'Agricoltura, una serie di convegni inseriti all'interno di Agrem. Considerato che le sessioni di convegni erano quattro, il giornalista incaricato di coordinare i lavori degli Stati Generali, le emissioni di comunicati e la redazione di testi, ha percepito 1.000 euro a sessione. Ma la Fiera Emaia non ha già un proprio ufficio stampa? Non poteva avvalersi della collaborazione di figure professionali in ambito locale per risparmiare? Andiamo avanti. Per quanto riguarda la stampa di manifesti, volantini, inviti e lavori di tipografia, sono state approvate due delibere. La prima, la numero 9, ha avuto un impegno complessivo di 965 euro più IVA, ovvero circa 1.160 euro. La seconda, numero 19, di 1.065 euro più IVA, cioè circa 1.290 euro. Insieme 3.400 euro per pubblicizzare una rassegna di tre giorni, che i cittadini, ma anche gli operatori del settore, hanno disertato. Infine, per chiudere le spese pubblicitarie, per la realizzazione di uno spot e per promozionare l'evento in tre emittenti televisive, due siti online, sono stati impegnati più di 4.000 euro. Per un evento di tre giorni, forse un po' troppi. Fatti due conti tra servizi giornalistici professionali, volantini, manifesti, spot e banner, la Greme 2012 è costata circa 10.500 euro, solo per la campagna di informazione. A questi conti vanno aggiunti altri 1.400 euro circa per i servizi di pulizia e vigilanza e altri 13.600 euro che riguardano la fornitura di beni e servizi, come per esempio il noleggio di spazi espositivi, arredi ed accessori e ancora un contributo di 500 euro all'associazione Assipan e il conferimento di un incarico ad un esperto per la realizzazione della mostra pomologica, costati altri 500 euro. A queste cifre vanno aggiunti infine il contributo della Camera di Commercio di 7.500 euro per organizzare gli stati generali dell'agricoltura, totale più di 34.000 euro. Ai quali infine bisogna sommare i contributi degli sponsor che hanno acquistato spazi nei manifesti e nei tabelloni. Insomma, in tempi di crisi come questi, si tratta di una spesa pesante per una manifestazione di tre giorni che al comparto agricolo del Comprensorio e Parino non ha portato alcun vantaggio. Ne valeva la pena? Sinistra, Collegia e Libertà esce dalla maggioranza. A Vittoria continuano i colpi di scena per l'amministrazione comunale. Dopo l'autosospensione dal PD del sindaco Giuseppe Nicosia, questa mattina durante una conferenza è arrivata l'ufficializzazione delle dimissioni in blocco da parte degli esponenti di SEL, da tutti gli incarichi amministrativi. A consegnare le deleghe nelle mani del segretario cittadino sono stati il vice sindaco in Sicilia, il presidente della Vittoria Mercati, Salvatore Garofalo, il componente del CDA delle Mai a Rocco Candiano, Angelo Denina, componente della Commissione di Mercato e Francesca Randazzo, consulente ai servizi sociali. Alla base della scelta c'è la situazione politico-amministrativa che si è venuta a delineare durante il primo anno di amministrazione. Tra i vari punti portati sul tavolo da SEL nessuno ha trovato fino ad oggi accoglimento, dalla chiusura dell'AMI all'avvio della raccolta differenziata e della società del mercato ortofrutticolo. Ma il vero punto di scontro è stato il piano regolatore generale, due visioni agli antipoti tra il gruppo di SEL e l'assessore all'urbanistica Caruano. Ma in questo momento abbiamo detto che ci fermiamo qui, ci sono troppe cose che non ci convincono, alcuni nodi risolti, pensavamo nel corso di questi mesi che si potessero appianare e chiarire, ma su alcune tematiche forti, piano regolatore, AMIU, Vittoria Mercati, gestione del mercato, non possiamo più andare oltre c'è la necessità di un forte chiarimento, vogliamo capire il PD, il sindaco, in quale direzione vogliono andare. Dunque, crisi aperta, Vittoria. Adesso il PD e il sindaco saranno chiamati ad una verifica se vorranno ricugire lo strappo con SEL oppure le strade si divideranno definitivamente. Si è aperta con la commovente esecuzione dell'Inno d'Italia al Teatro Naselli di Comiso, la quarta edizione del Festival Maggio Casmeneo, organizzata dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. A partecipare all'iniziativa, una rassegna riservata alle scuole con indirizzo musicale, nata come vero e proprio concorso tra scuole, poi trasformatasi in un festival non competitivo, sono state diverse orchestre della provincia, ma non solo. È un momento importantissimo ed educativo per i ragazzi, ma per tutti i ragazzi, a parte quelli che fanno musica. Oggi ci sono due giornate in cui vedremo partecipare diverse scuole. Oggi noi abbiamo, a oltre alla nostra scuola, i ragazzi dell'orchestra, dei due corsi ad indirizzo musicale che sono E e G, e sono ragazzine di seconda e terza media. Vedremo anche la scuola di Modica, la scuola di Scigli, la scuola di Favara e poi in questi giorni vedremo la scuola media La Matteotti di Vittoria, il pedalino, l'Istituto Comprensivo pedalino, più il coro sia di Monzerrato, che è una scuola primaria che appartiene all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Comiso e sia il coro dell'Istituto Comprensivo di pedalino. Sono dei ragazzi molto impegnati, il merito va non solo a loro, ma va anche ai docenti, alla professionalità e all'amore e all'impegno che loro dedicano quotidianamente. In questi anni il festival è cresciuto, perfezionandosi così come sono cresciuti i ragazzi che da quattro anni fanno parte delle orchestre e che vivono il festival non solo come momento ludico, ma soprattutto come momento di crescita e di apprendimento. Nel corso di questi quattro anni c'è stata una crescita, un incremento nella partecipazione da parte delle scuole, non solo della Sicilia, ma anche nazionale, dell'Italia e tutta. E nello stesso tempo i nostri alunni, che sono coloro i quali ospitano le altre orchestre, hanno avuto una sorta di impegno maggiore a far sì che la riuscita dell'orchestra della scuola come scuola ospitante possa essere anche da stimolo per le scuole che arrivano e partecipano a questa manifestazione. E' entusiasta di tanti ragazzi che oggi si sono esibiti. Oggi tu quale strumento suonerai? Io il violino. E' da tanti anni che suoni? Già due anni. E come ti senti? Emozionato? No, già ci sono abituato. L'ho suonato molte volte, anche fuori dalla scuola. Sono abituato a questi concerti. Io suono la chitarra, la solista. Da quanti anni? Da tre anni. Anche tu emozionato o sereno? Allora è sempre come la prima volta però ormai siamo più abituati quindi non c'è più l'emozione della prima volta. Da grande cosa vuoi fare? Da grande io ho intenzione di continuare gli studi però non lascerò certo la mia passione, la chitarra. Magari al conservatorio? Speriamo di sì, se c'è la possibilità. L'iniziativa proseguirà anche domani con la partecipazione dell'Istituto Bufalino di Pedaline con l'Istituto Matteotti di Vittoria. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.